La piazza era stracolma, molta gente è caduta ed è stata calpestata da altra gente. C'erano ovviamente anche tanti bambini, persone anziane, donne, è successo un po' di tutto. A quel punto è stato un fuggi-fuggi difficilissimo da gestire per tutti. Siamo stati travolti anche noi dalla folla, siamo stati costretti ad allontanarci, a rientrare qui nella nostra posizione. Non siamo riusciti a capire ancora dalle forze dell'ordine cosa sia successo. Si parla ovviamente del cedimento anche di alcune transenne che tenevano le persone. Ovviamente nella foga, nella paura di scappare da questo punto, travolgevano tutto e tutti. Vedete che adesso nella piazza la gente si sta allontanando con calma, non c'è più panico, però per 3-4 volte ci sono state delle ondate violente in un sesso e in un altro. Firono oltre 20.000, c'erano persone anche sui monumenti, sui lampioni, c'erano persone lontano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.